Nel match valido per la non aggiornata del Girona F e del campionato di Serie D, il Nereto trova la prima vittoria stagionale battendo l'Auroralto Casertano 3-0. Succede tutto nella seconda frazione, con la squadra di Bitetto che passa in vantaggio con Vojto, raddoppia con Nardini e chiude i conti con la rete di Ristovski. Primo successo in campionato per il Nereto, che sarà a quota 5 punti, staccandosi proprio dall'Auroralto Casertano, che resta in ultima posizione con 2 punti. Con il montaggio di Emiliano Gigliotti andiamo a vedere le lezze del match. Buona partenza del Nereto, che dopo 60 secondi si rende pericoloso con una conclusione dal limite di Cipriani. Il pallone si perde al lato di pochissimo. Canovaccio tattico molto chiaro, con la squadra di Bitetto che gestisce maggiormente il possesso, mentre gli ospiti aspettano chiudendo ogni spazio. Al 29esimo clamorosa occasione per il Nereto, con Salvatori, che dall'interno dell'area calcia a botta sicura, trovando la grande risposta di Kuzmanovic. Sulla respinta ci prova anche Vojto, ma l'estremo difensore ospite alza in corner. Nel finale di tempo si fa vedere nuovamente il Nereto, con un mancino dal limite di Ristoski, ma la sfera si perde al lato. La ripresa si apre con una clamorosa occasione per l'Auroralto Casertano, con Chiacchio, che sul cross dalla destra di Tia spedisce fuori da pochi passi. Al 52esimo altro squido degli ospiti, con un colpo di testa di Monteleone, sempre sul cross di Tia, che termina alto di poco. Il Nereto non sta a guardare e al 57esimo passa in vantaggio. Grande azione di Cipriani, che è in trenare dalla destra e mette al 100 per Vojto, che da pochi passi non può sbagliare a porta vuota. 1-0 Passano pochi minuti e padroni di casa sfiorano il raddoppio, con un calcio di punizione di De Farco, che Kuzmanovic alza in corner. Sono solo le prove generali del raddoppio, che arriva al 64esimo, con Ardini, che su assist del solito Cipriani, insacca con un bel colpo di testa. 2-0 La squadra campana accuse il doppio colpo e al minuto 84 il Nereto chiude meritatamente i conti, con Ristoschi, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo batte Kuzmanovic. 3-0 Nel finale, chance da una parte e dall'altra, con un destra di incrociare di Sant'Angelo per i padroni di casa ed un palo di illuminato da calcio di punizione per gli ospiti. Sono le ultime emozioni del match. Primo successo in campionato per il Nereto. Che batte meritatamente l'Aurore Alto Casertano 3-0. Prestazione convincente da parte della scuola di Bitetto, che sarà a quota 5 punti in classifica. Per noi le partite in questo momento, come ho detto ai ragazzi in settimana, le dobbiamo valutare tutte allo stesso modo. Sapevamo che affrontavamo una squadra nelle stesse condizioni nostre, sia di classifica che di precarietà. Loro sono stati bravi a fare Gull forse nel nostro miglior momento e noi ci portiamo questo male cronico che nonostante riusciamo a creare qualcosa non riusciamo a concretizzare. Adesso se andiamo a vedere il risponso finale 3-0 ritengo che sia un risultato pesante per quello che si è visto in campo. Però per come poi abbiamo affrontato il momento dopo il primo Gull è probabile che abbiamo meritato gli altri due Gull che sono venuti. Oggi era prima di tutto importante vincere perché ci permette di essere più tranquilli per il futuro. Poi sì, oggi è andata bene, ho avuto pure questi due assist e sono contento. Il pubblico sicuramente ci ha aiutato e dopo il primo gol diciamo che ci siamo ancora più, ho avuto la forza per andarla a chiudere dopo.